Quasi 2 milioni di euro alle aziende della provincia di Sondrio, da regione Lombardia, che ha approvato il secondo provvedimento di concessione del fondo chiamato Confidiamo nella Ripresa Energia. Si tratta, spiega il presidente Attilio Fontana, di uno strumento per sostenere le piccole e medie imprese, favorendo l'accesso alla liquidità, così da fronteggiare l'aumento dei costi e incentivare gli investimenti. Grazie all'impegno di regione e alla collaborazione con il Sistema dei Confidi Lombardo, a oggi oltre 500 imprese hanno ricevuto un importante sostegno, una liquidità pari a 9 milioni e 400 mila euro. Continuiamo a fare tutto il possibile a nostra disposizione per sostenere il bisogno di liquidità delle imprese lombarde, oggi una delle maggiori necessità, sottolinea l'assessore regionale alle attività produttive Guido Guidesi. Anche attraverso questa misura abbiamo voluto ribadire l'importanza del sano rapporto tra pubblico e privato. L'agevolazione si compone di un finanziamento medio termine, una garanzia regionale gratuita e un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore, la cui erogazione è subordinata alla restituzione del finanziamento ricevuto. In Valtellina e Valchiavenna il totale delle concessioni è di 1 milione e 920 mila euro. È la provincia a cui sono destinati finanziamenti maggiori in tutta la Lombardia.